Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di TFA sostegno e di prova orale dei concorsi. Voglio dedicare una prima parte di questo video al TFA perché in questi giorni, insomma, a ridosso delle vacanze pasquali è stato pubblicato il decreto del percorso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno che ha sollevato, diciamo così, un polverone. Innanzitutto partiamo col dire che è stato pubblicato il decreto. Il decreto va a formalizzare degli aspetti fondamentali. Primo tra tutti il numero di posti disponibili distribuiti per tutta Italia che sono all'incirca 30.000. Diciamo che si osserva un po' quel che è sempre stato evidente, ovvero il fatto che si sono diffuse diverse voci e se ne stanno diffondendo rispetto al fatto che ogni anno si dice questo ciclo di TFA sarà l'ultimo, si diceva che l'ottavo sarebbe stato l'ultimo, si dice che il nonno sarà l'ultimo, si dice che l'anno prossimo sarà sostituito da un percorso magistrale, eccetera, eccetera. E qui vado un po' a rispondere anche ad alcuni timori che mi avete esternato, non abbiamo ufficialità di niente. Viviamo minuto per minuto, lo vedete, nella scuola si va a dormire e il mondo gira in un certo modo, il giorno dopo potrebbe cambiare tutto, però al momento sinceramente non abbiamo elementi sufficienti, necessari per, diciamo così, prefigurarci un percorso di sostegno diverso da quello del TFA. Per il momento sappiamo che partirà il prossimo ciclo e che il percorso si dovrà concludere entro il 30 giugno 2025. Quindi il prossimo ciclo si dovrà concludere entro il 30 giugno 2025. Altra cosa che è stata formalizzata con il decreto sono le date delle prove preselettive. Io vi ricordo che il TFA ha una selezione che consta di tre fasi, una preselettiva scritta a risposta multipla, una prova scritta e una prova orale. Quindi sono tre tranche. Sostanzialmente, insomma, sappiamo le date che sono il 7 maggio per l'infanzia, l'8 maggio per la primaria, il 9 maggio secondaria di primo grado, il 10 maggio secondaria di secondo grado. Saranno le stesse identiche date per tutta Italia, quindi quando arriverà il momento bisognerà scegliere un Ateneo in cui sostenere la prova. Generalmente il pagamento, cioè diciamo così, la partecipazione alla prova preselettiva del TFA ha un costo che oscilla, per quanto ne so, dai 100 ai 150 euro. Quali sono i prossimi step a livello organizzativo? Adesso la palla passa nelle mani delle università, le quali devono ovviamente date alla mano organizzare i loro bandi, quindi predisporre le loro, diciamo così, tempistiche di iscrizione. Per quanto riguarda quel che non è ancora chiaro e che attendiamo dal Ministero, sono i requisiti d'accesso. Mi sento di essere tranquilla per quanto riguarda infanzia primaria, nel senso che da quel punto di vista non ci saranno novità, i requisiti d'accesso sono sempre o la laurea in scienze della formazione primaria oppure il diploma abilitante ante 2002, su questo non ci piove, possiamo stare dormire sonni tranquilli. Quello che invece va attenzionato e che dobbiamo ancora capire, quindi non possiamo rispondere a domande rispetto a questo, sono i requisiti d'accesso per la secondaria. Non sappiamo se saranno ancora necessari i 24 CFU oppure no. Questa è una questione che solo il Ministero in questo momento può chiarire. Devo dire la verità, la questione dei 24 CFU sembra, questi 24 CFU in generale, sembrano destinati a scomparire, nel senso che abbiamo già delle indiscrezioni, per esempio inerenti alle nuove GPS, che ci dicono che per l'accesso nelle seconde fasce del posto comune secondaria non saranno più necessari questi 24 CFU. E allora mi chiedo, a rigor di logica non dovrebbero neanche essere necessari per il TFA, però sono ancora questioni appunto che vanno appurate. Questo decreto è andato anche a definire con certezza una cosa che si aspettava da molto, ovvero l'accesso diretto di chi ha tre anni su sostegno negli ultimi cinque. Questa clausola, questa questione, insomma, era già emersa lo scorso anno, a livello politico erano state date, vogliamo chiamarle, delle false speranze, delle interpretazioni che poi si sono rivelate non corrette. Comunque, quest'anno è scritto a chiare lettere, chi ha tre anni di sostegno negli ultimi cinque, salta le prove di selezione e accede direttamente al TFA. Nello specifico saranno, diciamo così, costituite due graduatorie per ogni Ateneo. Una graduatoria riguarderà chi sostiene le prove, quindi chi gareggia tranquillamente, sottoponendosi ai tre step di selezione, preselettiva scritta e orale. L'altra graduatoria, invece, riguarderà tutti i candidati che avranno i requisiti necessari per l'accesso diretto, quindi andando a scavalcare le tre prove. Questi candidati potranno beneficiare del 35% di quota di riserva, per cui il 35% di posti, per dirla in altri termini, che verranno messi a disposizione per ogni Ateneo, saranno destinati a quei candidati che hanno i tre anni di servizio su sostegno. Per maggiori dettagli, per esempio, devono essere specifici, possono essere anche svolti su altro grado, dobbiamo aspettare chiarimenti ministeriali. Sappiamo che questi tre anni devono essere svolti negli ultimi cinque. Altra questione riguarda, purtroppo, il fatto che queste procedure si stanno accavallando tutte. Abbiamo il decreto del TFA, quindi sappiamo quando partiranno le prove, abbiamo delle prove orali di concorso da sostenere, abbiamo delle GPS che sono in procinto di essere aperte e ovviamente alla luce del fatto che queste procedure partono tutte, sembra senza un ordine logico, tra l'altro delle GPS che stanno per aprire con, devo dire, i tre quarti dei percorsi abilitanti che ancora non sono stati autorizzati. Quindi capite che c'è un po' di scombussolamento e capisco benissimo lo stato di frustrazione in cui tutti siamo, insomma. Anzi, approfitto per dire che giovedì sono convocati i sindacati con il ministero per discutere di GPS. Ci sono anche delle organizzazioni sindacali che premono sul ministero per eventualmente rimandare l'apertura di questi graduatori rispetto all'anticipazione che il ministero ha prospettato. Detto questo, ovviamente la preoccupazione di tanti candidati è ma se le prove del TFA mi capitano proprio il giorno in cui ho l'orale del concorso? Potrebbe capitare? Diciamo che potrebbe capitare, certo è una congiuntura astrale particolarmente così delicata, però potrebbe, ovviamente potrebbe succedere. In quel caso saranno predisposti ovviamente dei metodi per potersi tutelare. In un caso e nell'altro. Ovviamente il dono dell'ubiquità non ce l'abbiamo, però non c'è da preoccuparsi perché sono in entrambi i casi delle situazioni che non dipendono dalla nostra volontà e che anzi dipendono da un'organizzazione dell'amministrazione. Sapete che le prove del TFA sostegno, in questo caso queste preselettive, sono a organizzazione centrale, quindi del ministero. Se io dovessi avere la prova che ne so il 7 di maggio e il 7 maggio decido di andare a sostenere la prova del TFA infanzia dovrò avere delle modalità che dovranno essere ovviamente chiarite dal ministero per potermi salvaguardare perché non decido io in nessuno dei due casi di far sovrapporre le date. Sono delle situazioni remote ma a livello statistico sono delle situazioni che capiteranno, sicuramente potrebbero capitare e quindi quello che ci si aspetta è che il ministero possa in qualche modo andare subito diciamo a chiarire quali sono le procedure in questi casi anche perché già di ansia ne abbiamo tanta parliamoci chiaro ci mettiamo pure questi aspetti non la viviamo proprio benissimo. Per quanto riguarda quindi il TFA sostegno questo è quello che sappiamo ve l'ho detto per quanto concerne le GPS si aspetta questa informativa sindacale questo tavolo sindacale che evidenzierà non solo diciamo così tutti i dettagli che saranno contenuti nell'ordinanza eventuali sanzioni che insomma i sindacati vorrebbero affievolire una tra tutti poi è quella che ha la ricaduta sul famoso algoritmo che torna indietro che dovrebbe tornare indietro ma che non torna indietro però appunto le tempistiche sono la cosa su cui si vuole tentare di incidere maggiormente perché queste GPS che aprono in anticipo vanno a sacrificare tante persone primi tra tutti quelli che vorrebbero partecipare ai percorsi abilitanti e non possono neanche inserirsi con riserva perché questi percorsi non sono partiti tra l'altro vi dico da alcune notizie che mi arrivano da voi che mi scrivete i docenti già abilitati o già specializzati su altro grado che hanno iniziato sono gli unici al momento ad aver iniziato i percorsi abilitanti mi fanno sapere che alcuni atenei stanno mostrando perplessità rispetto alla possibilità di concludere questi percorsi entro il 30 giugno quindi sicuramente è un è un periodo molto molto ostico e sono purtroppo però lo devo dire delle questioni che erano prevedibili nel momento in cui si sovrappongono così tante procedure tutte insieme così tanto delicate e si pretende anche di accelerare i tempi perché insomma altra cosa diciamo seconda parte di questo video riguarda delle domande che mi avete fatto relative alla prova orale a cui cercherò di rispondere come meglio posto insomma con le informazioni che sono in questo momento in mio possesso c'è una ragazza che mi ha chiesto rispetto alla prova orale in lingua straniera sì la prova orale sarà in lingua straniera se concorri per una lingua straniera quindi rispettivamente non lo so ingrese francese spagnolo e mi chiede questa ragazza se esistono dei manuali in lingua straniera perché dice non ha senso per me studiare in italiano purtroppo no non esistono dei manuali in lingua straniera perché si presuppone che chi concorre per la lingua straniera possa non solo esporre la sua lezione simulata in lingua straniera ma anche avere capacità di argomentare su eventuali domande disciplinari o altro sempre in lingua quindi si presuppone che tu possa fare sostanzialmente una traduzione simultanea di quello che hai di quello che hai studiato ovviamente niente toglie che tu possa prepararti in lingua direttamente da casa quindi traducendo delle parti salienti del tuo studio eccetera però no non esistono almeno che io sappia dei manuali insomma di preparazione penso agli argomenti dell'allegato A che possano essere in lingua proprio perché dovrebbe far parte del docente di lingua la competenza di esprimersi nella lingua diciamo in questione altra cosa mi avete chiesto se conviene fare il powerpoint in maniera essenziale o con qualche animazione io credo che sia non tanto una questione di grafica ma una questione di pulizia generale cioè pochi elementi sullo sfondo colori che rendano il tutto leggibile la leggibilità è una cosa non soltanto gradevole ovviamente a livello estetico ma poi devo dire la verità la questione estetica può anche essere soggettiva però c'è sempre da chiedersi come docenti che cosa puoi dimostrare facendo una presentazione leggibile o non leggibile perché che ne so magari i caratteri troppo piccoli oppure un font pieno di ghirigori di cose uno ti può dire guardi se io fossi stato dislessico mi sarei trovato in difficoltà a quel punto non si tratta più di una questione estetica ma a quel punto metti proprio in gioco la competenza docente quindi grafica pulita leggibile occhio alle sovrapposizioni tra testo e sfondo al contrasto tra testo e sfondo eccetera per quanto riguarda le animazioni secondo me ci può anche stare l'unico problema che intravedo è che per una sorta di sicurezza quello che a me hanno detto è di convertire in pdf la presentazione che si fa quel giorno perché non si sa mai magari quel giorno ho un computer che per qualche motivo non apre il programma c'è un problema di compatibilità penso per esempio a me che lavorerò su mac e dovrò andare ad aprire la mia presentazione su windows ok e convertendo tutto in pdf inevitabilmente le animazioni non esistono più quindi magari si facciamo qualche animazione qualcosa eccetera però poi non è detto che riusciamo a presentare effettivamente per esempio il powerpoint con le animazioni quindi neanche puntare troppo sulle animazioni altra domanda ma quando si cita il ptof nella lezione simulata di quale ptof stiamo parlando allora diciamo che nel mondo ideale della lezione simulata ideale tu dovresti fare riferimento a un ptof di un istituto un istituto x se diciamo uno volesse fare un lavoro fatto coi fiocchi dovrebbe riuscire ad includere la propria lezione simulata nella progettazione di istituto di un qualche istituto ok il consiglio è andarsi a prendere un ptof di un istituto delle vicinanze cercare di capire quali sono i progetti attivati e magari poi quel giorno o inventarselo o se avete la fortuna di lavorare in una scuola che attiva dei progetti che possono essere affini con la lezione simulata che vi viene assegnata fate bingo ok perché questo vuol dire calare più nel contesto territoriale eccetera quindi sarebbe auspicabile anche riuscire a fare una cosa del genere diciamo che sarebbe proprio perfetto altra cosa forse la domanda più difficile è che cosa vuole la commissione ci sono delle linee guida per quanto riguarda cosa vuole la commissione no la risposta è no perché una delle cose che devono valutare è proprio questo quello che tu gli porti quindi ovviamente non ti dicono che cosa chiedono ti dicono come ti valutano però non ti dicono quali sono gli elementi essenziali di una progettazione didattica perché sta lì la tua competenza io so che ci sono tra noi tante persone che non sono esattamente avvezze alla progettazione didattica alle unità didattiche soprattutto alla valutazione che è un incubo totale cioè l'aspetto più delicato per quanto mi riguarda e lì si fa il gioco cioè quando parliamo di prova orale selettiva il gioco è quello cioè tante persone non hanno una preparazione didattica tale da aver realizzato mai questo tipo di progettazioni né nel loro percorso di studi né nella loro esperienza scolastica perché raramente nelle scuole si progetta per unità didattiche di apprendimento raramente si progetta effettivamente per competenze cioè io vi faccio una domanda a voi che avete lavorato nella scuola molto più di me quando a scuola in una riunione voi vi siete interrogati avete detto con i vostri colleghi bene su quale traguardo di sviluppo delle competenze lavoriamo questo mese sono poche le scuole in cui questo si fa e quindi ovviamente non diventa un'abitudine quotidiana e ovviamente quindi non è una prassi consolidata e quindi può mettere in difficoltà tante persone quando ci diciamo ci raccontiamo che la prova orale è selettiva parliamo anche di questo ci rivolgiamo soprattutto a un parterre di insegnanti o aspiranti insegnanti vabbè comunque tanti di noi lo sono già che si presume non abbiano esattamente la consapevolezza degli elementi fondamentali però il gioco è quello cioè non ci dicono cosa vogliono perché il gioco è quello ovviamente ci sono degli elementi essenziali che fanno riferimento ai traguardi di sviluppo di competenza che fanno riferimento alle competenze chiave europee alle life skills prerequisiti traguardi la valutazione in ottica trifocale gli strumenti della valutazione che dobbiamo per forza di cose costruirci noi una grille d'osservazione un diario di bordo un'autovalutazione però ovviamente lì deve essere tutto coerente col contesto perché non sempre ci devono essere tutti questi elementi mi riferisco per esempio alla valutazione a seconda delle attività dei tipi di scelte che si fanno ci sono dei metodi di valutazione specifici e non basta averli studiati molto spesso quindi cosa vuole la commissione la commissione vuole una progettazione didattica è chiaro che dobbiamo fare delle scelte e nessuno ci può dire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato ci sono degli elementi essenziali che sono quelli che vi ho elencato prima però in quel momento cioè nel momento in cui noi ci mettiamo davanti alla commissione purtroppo e questa è la cosa che non ci farà dormire probabilmente qualsiasi domanda può albergare nella mente dei commissari e il guaio è che giusto o sbagliata che sia dobbiamo sostenere una scelta cioè dobbiamo sostenere la scelta le scelte che facciamo devo dire la verità è molto complicato cioè l'orale è molto complicato proprio per questa tipologia di aspetti per questo tipo di imprevedibilità anche perché poi per esempio alcune tracce impongono degli elementi che altre tracce non impongono mi riferisco per esempio ai tempi ci sono delle tracce delle commissioni che ti dicono ma guarda la tua lezione simulata deve avere durata di x ore o x minuti ci sono delle tracce che invece ti lasciano molta più libertà e ovviamente anche in relazione a questo tu devi fare delle scelte oculate relative alla valutazione eccetera però ovviamente ci lasciano liberi perché più libero sei più hai la possibilità di sbagliare e quando si parla di orale selettivo ci si riferisce ahimè a questo e quindi niente mi sa che ho risposto alla domanda poi c'era una ragazza che mi diceva ma quanti ne bocceranno è possibile che boccino tutti purtroppo sì io ho sentito di commissioni che hanno promosso uno o due persone dipende dal trend che si prende ovviamente e questo mi è stato fatto notare da una ragazza nel video precedente quando ho detto che sarebbe consigliabile andare a vedere gli orali di chi di chi viene interrogato prima di noi nella nostra stessa commissione allora questa ragazza mi ha detto ma scusa ma allora chi va per primo è più sfortunato sì come al solito cioè chi va per primo non solo i commissari sono più riposati sono belli freschi eccetera ma chi va per primo non ha la possibilità di sondare il terreno questo però è il gioco della vita nel senso come tutti come quando uno è all'università e deve fare un esame con un professore che è appena arrivato e nessuno ti sa dire che domande fa nessuno ti sa dire se è largo di manica con i voti purtroppo estrarre una lettera significa che a sorte vengono interrogati prima Tizio Caio Sempronio e tutti quelli che sono dopo comunque hanno la possibilità di venire a vedere e o di deprimersi o di prepararsi di più non so come dire cioè è una cosa che succede che in qualche modo va accettata e niente io spero che questo video vi sia stato utile non lo so effettivamente quanto possa essere stato concreto però niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao